Presidente, com'è finita con i suoi odiattori, gli odiattori del web che lei ha più volte denunciato? Beh, diciamo che adesso dopo un anno dalle denunce, ho iniziato a farlo lo scorso agosto, cominciano ad arrivare i primi riscontri e i riscontri sono positivi, nel senso che c'è già chi è stato condannato a pagare una multa, quasi il massimo previsto dalla legge, c'è chi è stato rinviato a giudizio come il sindaco di Pontivrea, Camiciottoli, un sindaco leghista che mi aveva augurato lo stupro, un tweet in cui si diceva, mandiamo gli stupratori a casa della Boldrini, così le tornerà il sorriso. Quindi un'affermazione agghiacciante dal punto di vista istituzionale, un sindaco che dice questo alla Presidente della Camera dimostra di essere veramente un primordiale, dal punto di vista umano lo trovo agghiacciante perché che un uomo possa pensare che una violenza sessuale possa far tornare il buon umore a una donna vuol dire che è veramente una persona priva di umanità, direi. Sicché c'è stato rinvio a giudizio e vediamo adesso a settembre, io mi presenterò in aula, vediamo come va a finire. Sicché questo a dire che non bisogna subire la violenza, tutte le persone, specialmente le donne che so che si trovano nella stessa mia situazione, voglio dire che in uno Stato di diritto come il nostro ci sono le leggi e dunque di non soccombere alla violenza, ma di reagire, di rivolgersi alle autorità competenti. Ora che non è più Presidente della Camera, è cambiato qualcosa nel suo rapporto con il pubblico del web? Ma il mio rapporto con il pubblico del web sarebbe molto buono se non fosse che c'è una strategia politica dietro quest'odio che è stato alimentato. Quest'odio nasce, c'è un episodio che lo fa scaturire, in particolare quando appunto nel blog di Beppe Grillo venne pubblicato un post in cui c'era appunto un cartone con la mia immagine in cui si chiedeva che cosa faresti alla Boldrini in macchina, quella innocente domanda scatenò una serie di commenti osceni e da lì è iniziata l'assalto. Allo stesso tempo da parte della Lega questo è anche stato un sistema messo in atto, ricordo la bambola gonfiabile mostrata dal Vice Presidente del Consiglio Salvini durante un comizio e chiaramente anche da lì poi ci furono tantissime commenti sconci, minacce di ogni genere. Dunque è una strategia che nasce sulla rete per infangare la reputazione e si vede che queste due forze politiche che oggi sono al governo avevano già fatto un'alleanza, l'avevano fatta sulla rete come accanirsi contro quelli che appunto loro ritengono i nemici, anziché gli avversari politici e nel mio caso lo hanno fatto attraverso una cifra di carattere sessista, sessuale, mai entrando nel merito ma sempre cercando di dileggiare a scopo sessuale. Io lo trovo una cosa miserabile ma adesso ne risponderanno davanti alla giustizia.